Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in volo con Vincenzo Oggi vi voglio presentare un drone che ho preso ieri Che si chiama, aspetta come si chiama? Drago E' della Ciu Dots, io ho quello Sirio E ho preso ieri il drone Drago Infatti già provato, già tutto usato, buono, veloce Arriva a fine 70 km 70 km avanti andando dritto E anche andando indietro Molto buono ragazzi, fate dei video un po' migliori di poco Ha 8 pollici, 8 megapixel di fotocamera Invece il Sirio ne ha 4 Io ve lo consiglio questo Sentite, ve lo consiglio questo drone Facciamo partire la sigla e poi lo facciamo vedere Sì, veloce Sì, veloce E eccoci ritornati ragazzi Ora facciamo l'unboxing di questo bel drone Già usato Allora come vedete qua c'è il drone Questa qua è la scatola Che piego Questa qua è la scatola del drone Infatti adesso la andiamo a aprire Costa in circa Vi farò lo scontrino Però non vi faccio vedere dove l'ho preso Qua c'è il protettivo Ecco, questo qua è il drone Aspettate, questo qua è il drone Della 2 dots Con una bella fotocamera Che si può alzare e mettere dritta E mettere Così vedete Così E mettere E mettere la dritta Allora dopo questo ci danno Ovviamente Il telecomando Che è così Con le antennine Con le antennine E se è pronto Per pilotarlo Ovviamente Adesso È rosso Perché Non trova il drone Perché è spento Dopo questo ci danno Le istruzioni Allora poi ci danno Un cacciavite Per le eliche E Un set di eliche Di cambio Grigie e nere Ok Spera Abbasso un po' di più Ok Dopo questo ci danno Ovviamente Il caricatore Mettiamolo qua Ora ci danno ancora E basta Ora vi farò vedere Ovviamente Lo scontrino Dove Ovviamente Adesso vi farò vedere Lo scontrino Dove Ragazzi L'ho comprato Però non vi posso Far vedere Non voglio fare Che si dice E Mi caro Si dice Aspetta E Non voglio fare Pubblicità Infatti Aspettate Mettiamo solo Ok La scritta Ecco 139 euro Costa Poco Poi qua ti danno Manuale di istruzioni Manuale di Manuale La scrittura E garanzia E garanzia E poi Ti danno Questo foglio Che il proprietario Che l'ha costruito Ha fermato Boh Vi hanno Il drone È una marca Buona Ovviamente Buona Costa Quasi 200 euro Manca 60 euro 200 euro E Lo trovate All'Euronix Io non l'ho preso lì Non vi posso dire Dove All'un euro Lo trovate Lo trovate E dappertutto Pensate Chi l'ho pagato Scontato Se ne arrivava Il 270 280 È Un buon drone Come vi danno Il caricatore Ovviamente Le eliche Il ricambio Il caricatore Dopo ho messo Non trovo La Ovviamente E poi vi dare Però Aspettate Adesso Non trovo Aspettate Adesso Ragazzi Chiamo Mia sorella Che vi faccio vedere L'altro drone Giussi Porta il drone Così ragazzi Vi faccio vedere La differenza Tra questo Perché questo È il modello Dopo Di quello Che c'ha Mia sorella Dal telecomando È molto più grosso E le portate Il drone Così Vi faccio Porta anche Il telecomando Ragazzi Adesso Io vi faccio vedere Che differenza Tra Questo drone Sempre la stessa Marca Sempre uguale C'è La differenza E pensate Che Questo qua È il modello Prima Di questo qua E Ecco Il telecomando Vi faccio vedere Con il fronte Questo qua È il telecomando Di questo drone Che ovviamente Se fate caso Io lo metto Vicino Vicino Come vedete Ce n'è Di disif Di tanto Più grandi Delle eliche E ora Vi faccio vedere Il telecomando Tra Telecomando E telecomando Questo con antenne Vedete Aspettate Che alzo la videocamera C'è tantissima Di riserva Tantissima Tieni pure Signore E questo è il drone Della Ciflots Quello di mia sorella Che io Gli ho regalato E questo è il mio C'è Di diversità Ok Sto facendo il video Ok E ragazzi Iscrivetevi anche al canale Di mia sorella Si chiama Giussi Fai da te E spero che questo Breve tutorial Vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto E lasciate Un bel mi piace Se voi Siete appassionati Di Di droni Io vorrei salutare Un youtuber Spero che questo video Lo vede Anche così Lo voglio salutare a caso E saluto Giacchidale Perché lui è Un youtuber preferito E bravissimo Con i droni Io da quando sono piccolo Sono bravo Con i droni E Io c'ho C'ho il Mavic Air Mavic e Mini Il Phantom 4 Il Phantom 3 Il Phantom 2 Poi c'ho Il Poi c'ho Il Come si chiama Mavic Mavic Aspetta Mavic Pro Mavic Pro Non ho tanti Di DJI Di droni E Fantastico Io Da quando Seguo Da quando Seguo Giacchidale Secondo me Un youtuber Bravissimo Ci sa fare Coi droni Io lo saluto Ciao Giacchidale E Non so Non so se ho detto Giusto il tuo nome Però Vabbè Fa niente Io ti saluto E Se non è ancora affatto Iscrivetevi al mio canale Per favore Se vuoi Non è obbligato Lo lo dico subito Potete guardare Potete fare Però Almeno un po' di supporto Datemelo Per favore E iscrivetevi al canale Io vi saluto Ciao Belli Sì Grazie